Radio Nadecate, siamo con Alessandro Battilocchio di Forza Italia per parlare con lui del decreto ucraina che arriva qui alla Camera dei Deputati. Il provvedimento è in discussione dopo un fine settimana molto intenso, dove si è parlato di invio delle armi all'Ucraina, soprattutto con la Germania. Allora, innanzitutto, cosa pensa dell'opposizione all'invio delle armi all'Ucraina? Soprattutto è un'opposizione che non scende in piazza, non manifesta, non riesce a trovare la forza che c'era un tempo per manifestare contro queste cose come succedeva col PC negli anni o tardi. È un'occasione persa, perché comunque sia il provvedimento all'esame dell'Aula, sono intervenuto poco fa, è un provvedimento che si pone totalmente in continuità rispetto agli atti del precedente Governo e la continuità in politica estera è un valore aggiunto importante. Però c'è una differenza stavolta, che mentre i precedenti decreti sono stati approvati sostanzialmente all'unanimità da tutte le forze che allora rappresentavano la maggioranza di Governo, compreso il Movimento 5 Stelle, su questo decreto invece abbiamo visto e stiamo sentendo tante sfumature differenti. Per noi è un qualcosa di negativo. L'Italia deve garantire fermamente la sua presenza strategica all'interno del blocco occidentale, al fianco della Nato e dell'Unione Europea. Quindi io credo che sarebbe importante trovare una sintesi su queste posizioni. Purtroppo mi sembra che in questo decreto invece ci saranno nel Parlamento tante articolazioni che non fanno bene alla credibilità del nostro Paese. Come si è spiegato l'indecisione della Germania per l'invio dei carri armati Leopard? Che timore aveva Olaf Scholz? Pensava alla sua maggioranza dove ci sono i Verdi che qua in Italia si oppongono? Credo che ha già anticipato la risposta. Sono entrate in ballo tutta una serie di questioni di politica nazionale che hanno un po' fatto tirare il freno a mano. Anche questo non va bene. Una cosa che probabilmente ha sorpreso tutti, comprese le autorità della Federazione russa è in questo quasi anno dal 24 febbraio è la risposta forte, compatta del blocco occidentale. È stato un elemento sicuramente molto positivo. Se però questa coesione viene meno e si portano in politica internazionale vicende più strettamente legate invece agli ambiti nazionali è un qualcosa di negativo. Io ho sentito un po' il dibattito stamattina, addirittura ho sentito che un deputato del Movimento 5 Stelle ha detto che le armi che invieremo non saranno decisive. L'Italia deve garantire il supporto di mezzi, di equipaggiamenti anche militari all'Ucraina. Ripeto il concetto di fondo, stiamo in totale continuità rispetto ai precedenti atti che sono stati approvati in maniera sostanzialmente unanime. Quindi per guadagnare qualche spazio o qualche titolo sui giornali e si vuole dare una narrazione diversa è un qualcosa che lascia un po' il tempo che trova. Vuole dire qualcosa a quelli che invocano la posizione del Papa che chiede la pace però non mi sembra una posizione più che rispettabile. Anche noi siamo per la pace ma deve essere una pace giusta e sostenibile, non una resa da parte di Kiev. E per questo la posizione dell'Italia, ripeto, sin dall'inizio, nel febbraio scorso del conflitto, è una posizione giusta e lineare che va sostenuta con forza. Vuole dire qualcosa sulle posizioni che ha assunto Conte nell'ultimo anno sulla vicenda? Beh, diciamo, mi sembra siano piuttosto mutevoli e di indivenire. Quindi io mi auguro che prevalga lo spirito unitario che dal giorno dopo l'invasione nell'aula della Camera e anche al Senato è stata un po' la cornice. Ritorniamo a quello spirito. Bene, grazie come sempre. Alessandro Battilocchio di Forza Italia. Grazie a tutti. Grazie.